Erbacce miste e rifiuti per lo più bottiglie di plastica e qualche lattina circonda nel perimetro e non solo delle zone dove sono stati installati inizio anno scivoli altalene nel villaggio di Santa Barbara, giochi che a distanza soltanto di qualche mese si presentano in alcuni punti già rovinati ed in certi casi pericolosi e con qualche scritta qua e là. Si rende pertanto necessaria una urgentissima messa in sicurezza di tale aree attrezzata, garanzia degli abitanti del villaggio, scrive in una nota orgoglio nisseno, in attesa che la stessa sia oggetto di più importanti e risolutivi interventi di riqualificazione urbana. Orgoglio nisseno ha ritenuto di intervenire relativamente appunto alla villetta di Santa Barbara dopo averlo fatto per altri centri di aggregazione sociale della città di Caltanissetta e soprattutto delle periferie di Caltanissetta perché Santa Barbara rappresenta la periferia delle periferie in quanto tale è un villaggio quindi è lontana dal centro abitato alcuni chilometri pertanto ritengo che l'amministrazione comunale debba avere un occhio di riguardo nei confronti appunto di questo luogo e in particolare del luogo della villa comunale che rappresenta il luogo pubblico centrale nevralgico del villaggio Santa Barbara. Tanto chiediamo all'amministrazione comunale, chiediamo al sindaco di intervenire urgentemente. Io non penso di avere fatto un intervento nella qualità di coordinatore di Orgoglio nisseno in maniera sprovveduta. Certamente ci sono tanti amici, in primis c'è ritengo la sentinella di Santa Barbara Luigi Bellavia che è qui presente che diciamo mi racconta, mi rappresenta tutte le esigenze che riguardano proprio questo villaggio. Non sfuggirà anche come sono tenute le strade, come sono i marciapiedi spesso impraticabili e soprattutto appunto questo luogo. Il movimento infatti in passato aveva anche accese riflettori sulle condizioni di un campetto nel quartiere Balate Pinzelli ristrutturato da poco più di un anno dal comune, si legge, ma chiuso ed inutilizzato nonostante l'assenza in quella parte della città di luoghi di aggregazione sociale. Il sindaco prima ancora di dare riscontro a Orgoglio nisseno non l'ha mai fatto, questo lo devo sottolineare. Una precisazione del coordinatore che precede la richiesta. Dia un riscontro ai cittadini di Santa Barbara perché penso lo meritino. Intanto il primo cittadino contattato telefonicamente ci fa sapere che sta immediatamente provvedendo ad un approfondimento con gli uffici.